Musica Venerdì 16 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV come sempre sintonizzati, siete in tanti tutte le mattine, questo ci fa davvero molto piacere sintonizzati sul canale 17 del Digitale Terrestre per seguire i nostri programmi i primi fra tutti la rassegna stampa che apre la giornata informativa del nostro palinsesto cominciamo allora subito con l'insanto del giorno oggi la chiesa ricorda Santa Margherita, Margheria Loc, Vergine, il sole sorto alle 7.23 e tramonterà alle 18.25 guardate che bel quadro, sta dipingendo in questo momento perché è una foto scattata qualche istante fa sta dipingendo il Padre Eterno su questa terra con queste nuvole colorate dalla luce del sole su Fano perché è la telecamera che punta sulla nostra bella città con tutti i suoi difetti ma è pur sempre una splendida città 11 gradi e 8, questa invece è la temperatura del mattino le previsioni per oggi invece avremo un cielo parzialmente nuvoloso con locali annuvolamenti più intensi in particolare nelle zone interne rovesci sparsi più probabili invece nelle zone interne nella prima parte della giornata con temperatura in diminuzione nei valori minimi i venti sud occidentali, il mare sarà poco mosso per domani, sabato 17 ottobre, cielo parzialmente nuvoloso con assenza di precipitazioni, temperature in lieve diminuzione in particolare i valori minimi i venti di brezza tese, il mare sarà poco mosso per domenica 18 ottobre avremo ancora un peggioramento del tempo con addensamenti nel pomeriggio rovesci sparsi sempre nella seconda parte della giornata più probabili sui settori settentrionali quindi la provincia di Ancona e di Pesaro della regione Marche temperature in lieve aumento i venti di brezza tesa sud occidentali i venti mentre il mare sarà poco mosso per quanto riguarda il fine settimana e l'inizio della prossima settimana ancora ci sarà tempo variabile con un probabile miglioramento dramma ieri in tribunale a Pesaro a un certo punto un avvocato si è sentito male e adesso lotta tra la vita e la morte ne parlano i quotidiani questa mattina andiamo sul messaggero infarto in aula dramma in tribunale avvocato di 83 anni colto da malore in udienza mobilitazione dei soccorsi concitazione a Palazzo di Giustizia di Pesaro il professionista è ricoverato al San Salvatore di Pesaro si tratta di Vincenzo Romani originario di Mondaino classe 1932 del foro di Rimini con studio a Cattolica il tutto è cominciato alle 9 e 10 di ieri mattina poi si parla della Map System l'azienda di Sant'Ippolito si tratta ad oltranza per salvare i 63 posti di lavoro lo stabilimento è stato presidiato fino a tarda sera dai dipendenti e dalle loro famiglie la pagina di Fano invece del messaggero Caso Stadio il SIULP il sindacato Amaro dice ora il colpevole è la polizia dal sindaco Seri non una parola sugli agenti che sono stati sono rimasti feriti la spinosa questione della sicurezza ha tenuto banco anche in Consiglio Comunale oggi in programma in prefettura un vertice sui tafferugli alla partita Fano San Benedettese poi tra il sindacato e il mondo della politica restano attriti e Santorelli rimarca le accuse gli appuntamenti poi alla memo conferenza su Vitruvio mentre sempre sulla pagina di Fano del messaggero colpi di piccone per razziare al bar il titolare dice è il quindicesimo furto l'ultima volta ci hanno rubato 15 mila euro fra sigarette e gratta e vinci e poi sopra profilglas ulteriore ispezione dopo il rogo le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite critici come sempre i 5 stelle e allora non solo come sempre non era una critica cioè critici come è successo anche le altre volte ecco questo per dire ma non non era una critica la pagina di Pesaro invece del messaggero si occupa della polemica tra il sindaco Matteo Ricci e chi sostiene insomma che spenda soldi qua e là insomma lui dice no io non uso l'auto spenda soldi pubblici non uso l'auto blu io giro in bicicletta il sindaco fornisce i dettagli delle sue spese istituzionali rimborsi per 133 euro al mese mai voluto la carta di credito del comune per i primi sei mesi dell'anno ho guadagnato 2600 euro netti molti credono che abbiamo stipendi da parlamentari però non è così Ricci rassicura i pesaresi poi non pagheranno più la Tasi sulla prima casa e l'Imu agricola poi la cronaca sms dice Alex vivere non ha senso una notte d'allarme e di ricerche la donna ha chiamato i carabinieri alla fine l'uomo è rientrato a casa dopo aver vagato per ore e ore l'uomo è un uomo di 50 anni che le aveva mandato appunto un messaggino al telefono dicevo così non ha più senso vivere insomma aveva intenzione di suicida poi alla fine per fortuna non è successo nulla però la donna allarmata ha chiamato il 112 si presenta con un coltello invece all'udienza con l'ex moglie stava andando appunto all'udienza in tribunale ma come ha messo piede il metal detector ha fatto scattare l'allarme e messo sull'attenti la guardia giurata che appunto ha fatto svuotare le tasche a quest'uomo è venuto fuori che aveva un coltello a serramanico che aperto arrivava insomma a 21 cm quindi neanche tanto piccolino 4 milioni invece per le reti ultraveloci parliamo di internet di rete di banda larga nelle piazze torna attivo il wifi gratis investimento pilota della TIM con 74 km di cavi in fibra ottica e dunque il comune di Pesaro torna ad essere un comune tra i più importanti da questo punto di vista in Italia la banda ultra larga è già operativa nell'intero territorio comunale con una copertura del 98% e poi l'altra pagina del messaggero unione dei comuni sindaci divisi resistono i piccoli riunione del lanci ok ai 23 ambiti come punto di partenza ma le municipalità minori temono di essere fagocitate andiamo sul corriere adriatico la pagina di Fano con me politica trasparente sono parole di Renato Claudio Minardi il presidente del consiglio comunale che ieri ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio Minardi si dimette dalla presidenza le innovazioni tecnologiche e ha fatto un po' un bilancio un bilancio insieme a questa lettera di dimissioni di quello che è stato il suo compito il suo mandato ai suoi risultati ottenuti SIULP nessuna solidarietà ai feriti il sindacato di polizia spiega perché lo stadio è insicuro vogliamo smuovere la politica a provvedere poi la città la città di Fano che si mobilita per il piccolo Federico vari esercizi commerciali e anche organizzazioni sportive promuovono una raccolta di solidarietà abbiamo già ricordato più volte che queste iniziative servono per raccogliere fondi per dare la possibilità alla famiglia del piccolo Federico di sostenere questo ciclo di cure che costano intorno ai 30 mila euro che si faranno all'estero e per insomma ridare una forte speranza di ripresa al bimbo che compierà 5 anni il prossimo 24 dicembre carnevale sul carnevale ci sono fondi insufficienti stop al rilancio i carristi temono un'edizione con i carri vecchi con le allegorie vecchie fare un carnevale con gli stessi carri potrebbe significare la fine della manifestazione quindi anche la perdita delle maestranze che ci lavorano così sostengono appunto i carristi poi sempre sul corriere via da Marotta via la collaborazione sui primi progetti accordi per piano spiaggia ciclabile fanno Marotta Senigallia e intercettazione di fondi europei sopra recuperato un armadio blindato all'interno c'erano dei fucili era stato rubato a Monteporzio in azione una banda che mira a trafugare contenitori con le armi la pagina di Senigallia invece ecco qua la banda del buco in azione addirittura in tre bar ride anche in un consorzio hanno agito in quattro intorno alla mezzanotte malviventi in azione da Frank a Cesano una macchinetta cambia soldi e una slot machine che poi è stata ritrovata a Marotta l'altra pagina del Corriere invece fa Pesaro Urbino Pullman Pullman strapieni rabbia generale non solo il caso dei 110 studenti protestano le famiglie mentre Londè interviene la protesta dei 40 studenti che hanno denunciato alla polizia le condizioni di disagio e di scarsa sicurezza con cui viaggiano sugli autobus che li conducono nelle scuole ha sortito un vivace effetto e l'ultima pagina del Corriere è quella di Pesaro dagli esposti scaturiti 17 procedimenti trasporti sanitari il procuratore capo illustra le indagini condotte dalla Guardia di Finanza tre sono le informative al centro delle investigazioni il fallimento di Croce Italia Marche decretato da una sentenza del 15 marzo del 2013 poi Balducci che è il presidente del Parco San Bartolo Balducci lascia la presidenza per sfinimento amareggiato sotto il profilo umano ironizza sulle rassicurazioni del sindaco e dice stai tranquillo questo è il messaggio poi operative le nuove reti a banda larga come abbiamo visto Pesaro come le grandi città italiane poi anche qui la cronaca teme il suicidio dell'ex e quindi chiama i carabinieri adesso andiamo sul resto del Carlino anche qui dramma in tribunale per un avvocato lotta con la morte dopo un malore e poi da Fano invece stadio la polizia torna alla carica la polemica del SIULP contro il sindaco Serri nessuna parola da parte sua di solidarietà nei confronti dei poliziotti non esiste che per ogni partita siamo costretti ad impiegare 100 divise per l'ordine pubblico ed è vero terremoti alluvioni sì ma io non rischio la protezione civile in piazza volontari del club Mattei in azione questo fine settimana più di 4.000 volontari e volontari di protezione civile allestiranno punti informativi in circa 430 piazze italiane tra cui anche piazza 20 settembre a Fano Minardi si dimette dai numeri sul consiglio nella seduta del 21 passaggio del testimone toccherà a Rosetta Fulvi lui assieme a Garbatino e Nicolelli ha accumulato più presenze di tutti in aula e presto a novembre dopo 4 mesi di trattative ci sarà il congresso del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario poi attenzione ma di questo ne parliamo sempre attenzione ai falsi ispettori dell'Enel stanno girando adesso sono stati segnalati nella zona di Ponte Sasso ecco quindi attenzione alle truffe non accettate non firmate non aprite la porta non fate entrare mai nessuno anche se si presenta bene se si presenta elegante preciso con la faccia pulita disponibile fregatevene tenetelo fuori dalla porta Mondolfo bar assaltato a colpe di mazza disperato il titolare del Thomas Caffè quindicesimo furto forse lascio tutto ormai sui ladri abbiamo una rassegna di video da fare invidia ai carabinieri poi sotto ancora Voragine per la strada andiamo ad Orciano Voragine per la strada servono 5 mesi Orciano lo ha detto il sindaco durante l'affollatissima assemblea la provincia parte l'ESA per il geologo sono perdite delle condutture accumulatesi nel tempo il ruolo di Marche molti servizi e dunque fra 4 mesi e mezzo 135 giorni la strada provinciale 5 bis potrebbe tornare parzialmente transitabile lo ha detto mercoledì sera il sindaco di Orciano Stefano Bacchiocchi e per chi ha seguito io ho seguito sin dai primi istanti questa vicenda di questa strada che è crollata di questa mega voragine di questa frana che poi è finita ridosso delle case quando si legge che per i geologi quindi esperti gente che ha studiato che dedica la propria vita professionale allo studio della terra e quant'altro sono perdite delle condutture accumulatesi del tempo questa è la parola degli esperti 30 secondi dopo che era crollata la voragine gente che non ha studiato che non fa questo di mestiere ma che vive in quel territorio che lo conosce alla perfezione che cosa dice e che cosa ha detto sin dal primo istante secondo noi sono perdite delle condutture accumulatesi nel tempo ok ci fermiamo c'è l'ultima pagina da Fossombrone il patto di stabilità più resistente di un muro a Fossombrone l'infinita lotta burocratica per ripristinare un tratto crollato nel 2009 questa è la notizia che potrete leggere sulla pagina 25 del Carlino di oggi io mi fermo qui grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti